L'escavatore sta togliendo le canne finalmente dal fossato, ma queste di strada le facevo togliere sempre dagli operai della comunità montana perché potevano dare luogo ad incendi. Ogni anni i ragazzi della comunità montana venivano non solo in questa strada, ma in tutte le strade di campagna di Gaeta, alle Vignole, all'ERTA e davano il loro contributo perché Gaeta fa parte della comunità montana. È un lavoro che questo avrebbe dovuto fare il comune perché questa strada è comunale. Invece l'estate scorsa non si è fatta. Il fossato è di competenza provinciale sul delega regionale, ma la strada è di competenza comunale. Oggi è una bella giornata, il 7 novembre.